La richiesta che viene da questi lavoratori dell'azienda che lei ha la pretesa di dirigere chiedono il ritiro immediato di qualsiasi provvedimento che voi avete messo in atto. L'unico impegno che oggi ci possiamo prendere è di riuscire a portare anche voi al tavolo con il sindaco, al quale le altre organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro. Quando saremo davanti al sindaco decideremo tutti assieme quello che è meglio fare. Animi più che esacerbati a Venezia, con il Ponte della Libertà bloccato dalle migliaia di lavoratori CTV e AVM in sciopero, è il quarto dall'inizio dell'anno. Piazzale Roma è presidiatissima da una marea di uomini delle forze dell'ordine, mentre i lavoratori CTV tornano a chiedere con forza quanto ribadito nel corso delle tante manifestazioni degli ultimi due mesi e mezzo. È il sindacato di base, organizzatore dello sciopero, a parlare per loro, tornando a chiedere con le altre sigle sindacali il rientro dei tagli di stipendio. decisi invece unilateralmente dall'azienda e dal comune. Chiedono il ritiro immediato e da quel momento, come è sempre stato detto in tutte le riunioni, noi siamo disposti anche con delegazioni dei lavoratori a sedersi al tavolo e trovare una quadra. L'invito ad AVM già esteso anche al sindaco e al prefetto. E vogliamo da voi anche un atto di buona volontà anche da parte vostra. Se i lavoratori sono arrivati a questa esasperazione, purtroppo dobbiamo dire che la responsabilità è anche vostra. Grazie a tutti!